L'Associazione Territoriale Radicali Abruzzo oggi ha congresso a Pescara per il rinnovo della dirigenza. L'occasione è anche per fare il punto sull'attività svolta nel 2022 e su quella tracciata per il nuovo anno, sempre nel solco di Marco Pannella e in nome dei diritti. Un congresso ogni anno a cui possono partecipare tutti quanti gli iscritti e l'importanza di questa cosa qui è perché per cercare, noi crediamo, che per cercare di coinvolgere le persone nell'attività politica bisogna renderli effettivamente partecipi anche e soprattutto all'interno del partito. La nostra è un'associazione, Radicali Italiani, invece l'Associazione Italiana è un partito vero e proprio e tuttavia anche sui Radicali Italiani ogni anno si tiene questo congresso. È una peculiarità radicale questa, non tutti i partiti tengono congressi annuali per il rinnovo delle cariche, noi per convinzione di una forma di partito che sia effettivamente democratico al proprio interno ogni anno rinnoviamo queste cariche e diamo la parola a tutti quanti gli iscritti dell'Associazione e del partito a livello nazionale. Marco Pannella è stata e continua ad essere l'anima radicale di tutta quanta la galassia che appunto come sottolineato si è disgregata e che probabilmente anche per l'assenza di una personalità forte come quella di Marco, così carismatica, si è trovata un po' vedova, un po' assente del proprio padre. Crediamo che il lavoro che debba essere imbastito sia proprio quello di cercare di unire le forze e il referendum eutanasia dell'anno scorso appunto ha sottolineato questa volontà quando più Europa, Radicali Italiani, l'Associazione Luca Coscioni che è stata la promotrice in primis del referendum si sono riunite, hanno lottato, hanno combattuto per una battaglia comune e quindi insomma i semi radicali continuano ad esserci sul territorio e si vede come la galassia si è disgregata di fatto in quel problema di comunicazione ma non sui temi e sulle battaglie che devono essere portate a livello nazionale e territoriale. Oggi dove sarebbe Marco Pannella parlando di partiti, insomma di espressione di governo e di opposizione? Bella domanda, non è facile dare una risposta. Marco era sempre imprevedibile riguardo alle scelte che prendeva di volta in volta. Onestamente non ne ho idea, sicuramente non dalla parte di chi non difende lo Stato di diritto e chi mina continuamente la democrazia italiana e la democrazia in genere. Sicuramente non sarebbe da quella parte lì.